Non rispettare il vincolo del 3% è un rischio, non è un rischio. Allora, io mi dichiaro incompetente, nel senso che questo è un problema politico e poi dico rapidamente come la vedo, visto che... E poi c'è un aspetto tecnico. L'aspetto tecnico dovrebbe coinvolgere le mie competenze di economista, ma io mi arrendo, perché qui si parla del 3%, 3, quando noi abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione adesso, che è 0, e quando poi c'è il fiscal compact che addirittura richiederebbe dei surplus per abbattere il rapporto debito-pil. Quindi in realtà intanto bisogna capire quale parametro va preso sul serio, perché il fatto di avere tanti parametri poi espone a questa simpatica caratteristica che a seconda di come uno si vuole barcamenare politicamente ne prende per buono uno o un altro. Dico subito che siccome siamo più vicini al 2 che al 3 oggi, noi potremmo tranquillamente fare una politica espansiva come desidera Salvini, facendo contento anche Berlusconi se desidera rispettare il 3. Ci sarebbero margini per fare una politica più espansiva restando dentro al 3, fermo restando che in Costituzione abbiamo lo 0 e quindi io qui mi arrendo. Dal punto di vista politico però, io mi continuo a chiedere quale sia il vantaggio, lo dico con grande rispetto perché non sono un politico, quindi magari il vantaggio c'è, però quale sia il vantaggio di rispettare delle regole che tutti abbiamo visto essere assurde perché ci hanno messo in grosse difficoltà. Insomma, i telespettatori sapranno che Monti, grazie al rispetto di queste regole, ha fatto esplodere il rapporto debito-pil perché ha tagliato il pil più di quanto abbia tagliato il debito. Allora tutti sappiamo che sono assurde, ma diciamo che le dobbiamo rispettare perché così poi l'Europa ci viene incontro, non si sa come, imponendoci altre regole, finora è stato così. Ha veramente senso che uno Stato sovrano di 60 milioni di abitanti che tutto sommato hanno dato qualcosa alla storia dell'umanità e continuano a dare qualcosa all'economia mondiale debba aspettare che da quella simpatica espressione geografica che è il Belgio, fatta di due comunità che si odiano cordialmente, dove mettono i muri nei cortili delle scuole fra bambini valloni e bambini fiamminghi, arrivi il permesso di fare che, di comandare a casa propria. Sinceramente io mi rendo conto che questo può sembrare demagogico, ma vi assicuro che dal punto di vista di una riflessione anche scientifica, di scienza politica, questa cosa, molto senso, non ce l'ha. E comunque, per dirla come l'avrebbe detta, non so, mia nonna, chi si fa pecora al lupo se lo mangia. È abbastanza normale che ci continuino a essere imposte regole se noi continuiamo a rispettarle, più sono assurde più le rispettiamo. Questo, però, magari, l'esperto qui non sono io, è sicuramente più esperto non Revole Berlusconi, che la politica la fa da tantissimi anni. A Bruxelles si è aperto anche il fronte della flat tax, per cercare di ridurre le tasse, ma Pado ha detto che non ci sono le coperture. Non ci sono le coperture se si vuole mantenere un parametro X, lo 0 o il 3 di bilancio. Se si accetta l'idea che ci possa essere un deficit rilevamente più espansivo, le coperture ci sono. A me fa anche un po' sorridere la strategia comunicativa scelta da Pado, anche un collega illustre, eravamo anche nello stesso dipartimento, per un po', e senz'altro apprezzo il suo lavoro scientifico, di parlare delle fatine. Perché noi economisti usiamo la metafora della fatina. La metafora della fatina è stata utilizzata in particolare da Krugman per descrivere le politiche di austerità. perché quello che si raccontavano gli economisti, quelli seri o stodossi, era il governo fa il bravo e allora arriva la fatina della fiducia che spinge i cittadini a spendere... Le fatine blu o le bacchette magiche. Sì, che con la bacchetta magica dell'austerità il cittadino si rincuora e spende i soldi che non ha perché lo Stato gliela ha tolti con le tasse o riducendogli il reddito. Quindi questa storia, sinceramente, per chi ha creduto alla fatina dell'austerità, forse ci vorrebbe prima un piccolo mea culpa poi occuparsi delle fatine altrui, secondo me, per essere credibile visto che la credibilità ci viene sempre sbandierata come un grande bene.